Tifoso Real Sociedad perde un dito allo lo trova la moglie, il racconto Pulp. Roma ha brutto incidente per un tifoso basco della Real Sociedad nel pre-partita del match di Europa League con la Roma, aggrappandosi a una grata. Il 50enne spagnolo, con una dinamica ancora da chiarire, ha subito l'amputazione della falange di un dito. Il racconto dei testimoni ai Pulp. La fede si incastra nella grata, la moglie recupera il dito agghiacciante la ricostruzione dell'accaduto, il supporter dei baschi. In stato di ebrezza, si sarebbe aggrappato a una grata prima di perdere l'equilibrio e vedersi amputare un dito. Probabilmente a causa della fede. Sarebbe stata addirittura la moglie a ritrovare la falange. Prontamente raccolta dalle forze dell'ordine sopraggiunte per soccorrere l'uomo. Prima della corsa verso il Policlinico Gemelli per un delicato intervento chirurgico. Virgola.